Per noi è sempre un piacere ricevere questi riconoscimenti, oltretutto abbiamo spiegato al Presidente che oltretutto è anche di Giulianova che stiamo facendo delle importanti iniziative per incrementare quelle che sono i tratti di pista ciclabile stiamo pensando a una ciclo pedonale sulla strada alle 80 e stiamo lavorando appunto per la realizzazione e oltretutto si vanno ad aggiungere alla bandiera blu e alle spighe verdi quindi il Comune di Giulianova ha ottenuto i massimi riconoscimenti turistici e questo ci fa veramente piacere e di buon auspicio per il nostro comparto turistico che è un comparto troppo importante che dà vita alla nostra città Riconoscimenti turistici come dice giustamente lei, soprattutto per una città costiera come quella di Giulianova Giulianova ha la maggiore capacità ricettiva della provincia di Teramo quindi Giulianova è la regina del turismo in questa provincia ha e ospita il porto di Giulianova che è il porto appunto dell'intera provincia dove stiamo girando questa intervista e quindi noi dobbiamo assolutamente avere i massimi riconoscimenti dobbiamo fare un po' da capofila di tutto quello che è il turismo per la costa Teramo quello del Bike Smile Comune di Ciclabile è un riconoscimento che un po' tutti sottovalutano ma che comunque è importante anche a livello nazionale come riconoscimento soprattutto nelle più grandi città italiane noi siamo al secondo livello e quindi abbiamo un punteggio intorno al 6.5 vogliamo arrivare a un terzo livello che si avvicina a un punteggio vicino all'8 perché vogliamo appunto avere questo riconoscimento e tutto quel mondo che ruota attorno alle ciclabili, alle biciclette, ai tratti collegati noi proviamo a pensare che abbiamo un tratto che parte da San Benedetto e collega fino a Pescara e noi vogliamo recitare un ruolo di protagonisti quindi siamo a disposizione, abbiamo studiato quelle che sono le iniziative per innalzare il livello qualitativo e le porteremo avanti durante l'inverno per prepararci alla stagione estiva grazie